Siamo con Redivo, una vittoria, primo tempo alla grande, poi al secondo tempo forse la squadra si è seduta e il Corrinaldo è tornato in auge. Sì, oggi grazie a Dio abbiamo fatto una bella partita al primo tempo e siamo usciti con la vittoria. È ad aspettarsela, è un derby, è una partita importante, i derby sono sempre importanti. Sì, nel primo tempo abbiamo dato il massimo, nel secondo tempo magari loro hanno cercato di dare la vita come è normale contro di noi, ma alla fine l'importante è che abbiamo vinto e ci portiamo a casa i tre punti. Una squadra che sta ancora crescendo e chiaramente più avanti più sicuramente i risultati e comunque il gioco migliorerà. Sì, sì, ci stiamo conoscendo, è la quinta giornata, abbiamo riposato la prima. Piano piano stiamo crescendo come squadra, cercheremo di conoscerci tutti quanti insieme e portare a casa i nostri obiettivi.